Il vero problema economico in Italia. Gli sciocchi pagano per i furbi. Sapevi che l'Italia ha uno dei tassi di produttività più bassi in Europa? Esatto! Mentre pizza e pasta sono famose in tutto il mondo, l'economia italiana sta lottando. E ora è il momento di capire perché. Ciao a tutti! Bentornati sul canale. Oggi affronteremo un argomento serio. I problemi economici dell'Italia. Esploreremo il ruolo di alcuni settori poco produttivi e di certi sussidi piuttosto discutibili che stanno rallentando l'economia. Quindi, allacciate le cinture e iniziamo. Parliamo dei problemi principali. L'economia italiana sta affrontando una vera crisi. E la causa è una combinazione di due grandi fattori. Prima di tutto, abbiamo i contributori poco produttivi. Persone e settori che non stanno facendo la loro parte. Che si tratti di industrie obsolete o della mancanza di innovazione, questo rappresenta un grande ostacolo alla crescita. Poi, c'è la questione dei sussidi. Il governo sta iniettando denaro in vari settori, ma molti di questi fondi finiscono nelle tasche sbagliate. Stiamo parlando di sussidi discutibili che non migliorano la produttività, né portano beneficio all'economia nel suo complesso. Invece di creare posti di lavoro e stimolare la crescita, spesso portano a sprechi e inefficienza. Quando combini questi due fattori, scarsa produttività e cattivo uso dei fondi, ottieni un'economia stagnante che fatica a rialzarsi. E questo non influisce solo sui numeri, ma colpisce anche gli italiani nella loro vita quotidiana e nella qualità della vita. Analizziamo meglio la situazione. Prima di tutto, i contributori poco produttivi includono quei settori notoriamente resistenti al cambiamento. Pensiamo a industrie tradizionali come tessile e agricoltura, che sono rimaste ancorate al passato. Questi settori, che una volta erano il pilastro dell'economia italiana, ora faticano a competere a livello globale. Dall'altra parte, parliamo dei sussidi discutibili. Spesso vengono assegnati a imprese che non ne hanno realmente bisogno o che sono gestite male. Ad esempio, certe aziende ricevono fondi governativi per modernizzarsi, ma invece di investirli saggiamente, intascano i soldi o li usano in modo scorretto. Questo non solo spreca il denaro dei contribuenti, ma perpetua un ciclo di dipendenza dall'assistenza governativa invece di promuovere vera innovazione e crescita. Tutto ciò crea una tempesta perfetta che soffoca il progresso economico. Il risultato? Alti tassi di disoccupazione, soprattutto tra i giovani, e un generale senso di sfiducia in molte regioni. È un circolo vizioso in cui l'economia soffre perché sia i lavoratori, sia i fondi destinati ad aiutarli non vengono utilizzati in modo efficace. Allora, qual è l'intuizione principale? Al centro dei problemi economici dell'Italia c'è un disallineamento fondamentale tra le risorse disponibili e il modo in cui vengono utilizzate. Se riuscissimo a rivedere e reindirizzare questi sussidi verso settori promettenti, come tecnologia, energie rinnovabili o persino il turismo, ci sarebbe un potenziale di crescita reale. Pensateci. Investire in istruzione e innovazione anziché in industrie obsolete potrebbe dare potere a una nuova generazione di imprenditori. Inoltre, se i sussidi fossero regolati meglio e destinati a imprese produttive, si potrebbero creare posti di lavoro e rilanciare l'economia. Non sarebbe una svolta? Affrontando questi problemi alla radice, l'Italia potrebbe non solo migliorare la sua posizione economica, ma anche ispirare un rinnovato senso di orgoglio tra i suoi cittadini. Per riassumere, le difficoltà economiche dell'Italia si riducono a due questioni principali contributori poco produttivi e sussidi discutibili. Affrontare questi problemi è vitale per il futuro del paese. Spostando l'attenzione su settori più produttivi e assicurandosi che i fondi siano usati saggiamente, l'Italia può recuperare il suo potenziale economico e migliorare la vita dei suoi cittadini. Ora voglio sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate della situazione economica in Italia? Scrivetelo nei commenti qui sotto. E se siete interessati a scoprire soluzioni innovative per questi problemi economici, non dimenticate di guardare il mio prossimo video in cui esploriamo alcune idee interessanti. Grazie per aver guardato e ci vediamo la prossima volta!